Da onorevole, dieci anni fa perdeva la sua battaglia con Ventola per la sanità, quindi oggi si ritorna ancora a parlare di sanità, ma dieci anni sono stati ancora peggiori. E questo penso che sia sotto gli occhi di tutti. Io ho sempre parlato il linguaggio della correttezza, quello che ho detto in campagna elettorale ho fatto il giorno dopo, non ho avuto l'idea di strumentalizzare queste scelte. Invece, e questo è un dato oggettivo, sulla sanità è Ventola che ha girato la Capitanata e la Puglia raccontando che avrebbe riaperto gli ospedali, che avrebbe abolito il ticket e che avrebbe abolito le liste d'attesa. Fate voi. E qui abbiamo un candidato che ha sofferto per la sua città, Pica, quindi parliamo della storia di Lucera. Sicuramente Lucera come il resto della provincia e della regione. Pica ha dimostrato in regione di poter seguire e evidenziare queste grosse anomalie e queste grosse incongruenze che hanno caratterizzato l'azione della sinistra del governo della Puglia.